Because you too It's Yeah the Two Bits Fatevi indietro Sì signore C'è l'ammiraglio Danilo Valle Come mai è lì? Viene freddo o no? Subito C'è una cosa importante di cui voglio informarvi Non era la stagione dei fichi Facendo le dovute analisi in un documento 0188 Consolato a Berlino nel IV secolo Adesso mi rispano in particolare Non darti delle colpe che non hai Sato Sato Come si chiama tuo padre? Si chiama Osvaldo Paniccia Non è vero Sì è la verità È l'unico padre che abbia avuto Non c'è stato nessun altro Grazie a questo trucco è riuscita a ingannarci Anzi è riuscita a imbrogliarci Arutula Nel mare meridionale c'è un'isola che si chiama Fichi Fichi È pazzesco non riesco a crederci Pazzesco ragazzi ma come si fa Allora a quel punto ho fatto una fotocopia L'ho mandata a Vittorio Messori E Vittorio Messori è stato molto gentile Mi ha risposto dicendo Sui testi Quindi è il spugno di fuoco È il figlio naturale di Gold Roger È ancora in vita Il discendente del re dei pirati Iscriviti Grazie a tutti.